E' un'auto nuova in città. Ehi, sei l'auto che ho visto prima, vero? Boku wa... E' un'auto che ho visto prima, vero? Amico, hai preso quelle curve inderappate. Davvero forte. Hai mai sentito il detto, sterza a destra per andare a sinistra? Kimi no koto... Mita koto ali o? Lightning McQueen daよね? Esatto, hai detto Saeta. Sono io. E questo è Carlo Atrezzi. Konnichiwa. Konnichiwa. Carlo Atrezzi, parli giapponesi. Ma certo, come tutti. Boku wa... Kimi no tondadchi no daifan nanda. Boku no tomodadchi mo... Miena kare no koto sってる jo. Mosi, boku ga... Kare to reisしたら... Miena, dai koufunするだろう na. Kito, den節 no reisになる jo. Kare ha, boku no toonadchi no uke te kureる karen. Uum. 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 Aspetta, che cosa ha detto? Ti ha chiesto se vuoi gareggiare contro di lui vendato, a marce indietro e con le gomme a terra. Però, che strano. Beh, sarà meglio che tu gli vada dietro, prima che si cacci nei guai. Ehi, in questo modo le gomme devono durarti pochissimo. Sai, dovresti proprio andare da Luigi a... Woo-hoo! Wah-ha! Eh? Ta-da! Oh. Su-go-oi. Carlo Attrezzi, sei stato incredibile. Va tutto bene? Oh, sì! Divertente! Andiamo al rimorchio. Bentornati, amici! Sono Carlo Attrezzi. Come potete vedere, il nuovo autodromo è quasi pronto. Io sto risparmiando per l'abbonamento. Magari riesco a prendere uno dei posti d'onore. Sei nella mia squadra. Puoi venire qui gratis. Davvero? Grazie, amico! Bentornati alla Coppa Nazionale. Vedremo delle sfide molto interessanti. Koji viene dal mondo delle gare di accelerazione. Sebbene il suo stile sembri molto differente dal mio, in realtà non è così. Ma davvero? Se ti hai visto che entro gratis, posso anche prendere da mangiare al bar senza pagare? Ma certo! Comunque, come dicevo, le gare di accelerazione si basano sullo stile. Devi possedere la tecnica. Ma se lo spettacolo non è bello da vedere, hai fallito per metà. Giusto? Fammi capire bene. Anche se non c'è nessuna gara, posso andare al bar a prendere da mangiare. Certo! Tutto quello che riesci a portare via. Molto bene! Ringrazio Saita McQueen per essere intervenuto e averci portati dritti in pista. Ehi, gente! Posso mangiare gratis al bar! Piacere mio. Qualche problema, sceriffo? Il limite è di 40 all'ora. E ho becchiato questo pirata del volante a 190! Sono un'auto da corsa. Vado da zero a 150 in due secondi. Non sono mai andato a 40 in vita mia. E poi dov'è l'autoban? Continua a blatterare di questa autobanana. E quando gli do una multa, la firma come se gli avessi chiesto un autografo. Sono Otto von Fassenbottom, la famosa auto da corsa. Sono qui per correre, ma non ci sono gare! Ascolta, sceriffo. Lascia che a Otto ci pensi io. Ti prometto che lo terrò lontano dai guai. Ciao Otto, li facciamo tre giri? Troppo facile. Io corro alle cars. Ogni gara ha una durata di 24 ore. Sembra faticoso. Iniziamo con tre giri. Forza, sceriffo, uniscite a noi. Metti la sirena, sarà divertente. Non sarà ultimo ancora per molto. Non è stato male. Ma facciamo qualche altro giro. Oh, ancora? Ti piace correre, eh? Perché non ti prendi una pausa per visitare la città? Non c'è molto tempo. Devo gareggiare. Non pensi che dovresti comprare un souvenir in città? Non hai una ragazza in Germania? Ja, si chiama Jenny. Che cosa ti dicevo? Non puoi tornare senza un regalino per Jenny. Nein, le salterebbe la testata. Esatto. Per fortuna, il negozio di Lizzie è alla fine della strada e lì puoi trovare ogni tipo di souvenir. Dille che ti manda Setta. Vangasen Setta. Ricordati di chiedere il giro completo. E chiedi di Stanley. E di come sono cambiate le cose dai vecchi tempi. L'hai mandato da Lizzie, eh? Già. L'ho terra occupato. Già. Ehi Doc, ispezioni l'autodromo? Sì, sembra a posto. Ah sì, circuito nuovo, guardiola per Carlo Attrezzi, box per Guido. Sarà straordinario. Bella pista davvero. Sai su che cosa mi allenavo io? Sullo sterrato. Trade di campagna, steccati di legno. Io ogni giorno guidavi per 20 km fino a scuola con la neve senza catene. Andiamo Doc, per la città sarà un grosso aiuto. Sono fiero di te figliolo, sei stato bravo. Oh, grazie Doc. Significa molto per me. E dovrà bastarti. D'accordo. Bene, bene, bene. A quanto pare qualcuno sta provando il circuito prima di te. Che cosa ne dici di andare a sfidarli? Il circuito è tuo, ora tocca a te. Ehi, ma chi è quello tutto coperto di adesivi? Chi-ho! 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 Volevano farmi fare la spida in Italia. I'm ready to win! Let's do this! Ciao! I'm ready to win! I'm ready to win!